Musica Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Sono Mattani Tirato e oggi siamo in questo nuovo episodio con Samu DL02 Fumogene ragazzi Fumogene Ragazzi siamo il fumogene team Se non ci conoscevate E noi siamo quelli lì che buttiamo le fumogene allo stadio Quelli là che vedete ovunque Sì Sì È la nostra vita La fumogena nuda È la vita nostra vero Ah bella fumogena nuda Madonna mi trovo con la tragica Devo fare d'oro Arrappiamoci È bello vedere un porno con la fumogena nella ficca Vai Fumogene sua Emo si om Ma lo sei uomo Ragazzi si parea Attenzione Bravi discepoli Della fumogenina Sì siamo tutti fumogenieri ragazzi Cioè tutti facciamo parte di una grande famiglia di fumogene No come una grande famiglia di lote Le lote lasciamole a casa Questo con il ripper perché Già c'ho 11 minuti di blackjack quindi non voglio sprecarli Vai l'impulso visivo ci sta Ah non è nessuno No cazzo No c'è la montana Volevi Bauscia Volevi Bauscia Oh metti XM E' la posta No non ce l'ho Io c'ho la classe con risposta eccessiva Cioè pratica c'ho nell'arma secondaria c'è un'arma primaria Ok ucciso E questa non è una mappa da dredge Non lo è proprio Più una mappa da dragon Cioè io col dragon non so mio Cioè in pratica E' un cecchino che non l'ho mai usato Cioè però lo sto usando ora Mi accorgo che è un cecchino che una potenza esagerata Attenzione raga Boom Ripet Boom Boom Attenzione Non ci vedo assai Bene 12-12 Attenzione Attenzione Boom E' Samu E' Samu Eccoci Vai nessuno ci ferma Boom Kill Kill è morto No dai Bastardo Ho le mani sudate Ho le mani sudate Vai una bella corazza cinetica Ma Kill Guavi Dove stanno Pure C'ho lo AB Stanno più dietro di me Boom Kill Ok c'ho l'approvvigionamento Però qua dietro c'è l'inferno Attenzione Attenzione Uno Che ne stanno parecchie Sanguinario Mettiamo Guardi Ho finito le armi e prendo a cazzotti la corretta Non ci sono i cazzotti Attenzione Bo Sanguinario Attenzione Siamo a 6 kill La kill streak La kill streak Siamo in streak ragazzi Siamo in streak Siamo in streak Che sei Che cosa Dove Mamma mia Ragazzi ragazzi Siamo in 7 8 Siamo in 8 Kill streak da 8 Mamma mia La casetta del camper Attenzione Noio Attenzione Samu di L2 Guadagna un trofeo Proprio a lui Attenzione Siamo A quante giudizioni Torna in te Va bene Vai vai No 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 Da dietro Boom Senza pietà Senza pietà Signori Senza pietà A 10 A 10 Non ci credo Non ci credo Mi sudano tantissimo Le mani Bo 11 11 Non posso mai credere Attenzione Siamo tutti quanti In streak La streak Più grande Sto io Per ora 12 12 12 12 Mamma mia Una kill streak Da 12 Attenzione C'ho Abbiamo l'hater Che dice Che c'è un nemico Dietro di me Ci sono Molti più nemici Dietro di me Però Attenzione Raga eh Io sto nello spawn Nemico Non vorrei dirlo Attenzione No No Sono morto Sono morto Che ero bambino Sono morto E con altri Vincono 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 No No raga Troppo Forse Ma Invece Andiamo a vincere Raga Andiamo a vincere Malissimo C'è proprio Una vittoria Che non era Tra le vittorie Dai Cioè Non ci doveva essere Proprio Questa vittoria Mamma mia Guardatelo A sinistra Potete ammirare Samuele Signori Tentavo il primo Forse Tra l'altro Blackjack Però Vai I primi due Blackjack Blackjack Miglior Specialista Sicuro Sì Sì E va bene Ragazzi Per questo Episodio È tutto Ci rivediamo In un prossimo Episodio Da Samu E da Maternisi Tutto Per questo Sì Sì Di Sì 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 Sì